Imparare l'arte del riciclo, imparare a riutilizzare materiali che diventerebbero per noi nella quotidianità uno scarto e che invece possono tornare ad avere vita attraverso varie forme d'arte e di artigianato. Questo è molto altro, si è imparato nei giorni della fiera Fa la Cosa Giusta che si è tenuta nel quartiere fieristico di Trento nei giorni tra il 30 ottobre e il 1 novembre del 2010, giunta quest'anno la sua sesta edizione. Si è imparato a capire che cosa c'è dietro la produzione di un oggetto, di un'automobile, di un alimento, capire la differenza tra la filiera corta e la filiera lunga, studiare come si può imparare a rispettare l'ambiente e a praticare un consumo sostenibile attraverso le esposizioni che hanno mostrato prodotti che provengono da un commercio alternativo ma che sempre più si sta affermando come la scelta vincente per affrontare i problemi ambientali ed economici che la nostra società contemporanea impone. Costi e benefici che sono quelli che il visitatore può valutare direttamente dalla proposta in fiera. Una fiera che è rivolta specialmente ai giovani e ai bambini perché abbiano una competenza acquisita sul saper scegliere e sul saper acquistare. Un'occasione importante che diventa sempre di più un insegnamento per riuscire a vivere nella società contemporanea seguendo i propri gusti e seguendo le proprie necessità rispettando quello che è l'equilibrio economico e ambientale che la condivisione di uno spazio come quello della terra richiede.